Diciamo un'accelerazione, un'implementazione o la certificazione di un processo più lungo come diceva generale Cuzzelli che diciamo così è dettata dalla situazione di stallo della guerra, c'è un cambiamento comunque di passo e è effettivamente un patto a prova di Trump come ha scritto qualcuno oggi. C'è un'agenda ufficiale di questo vertice che è quella che abbiamo visto e che dà il messaggio di cui parlava il generale cioè la Nato non si divide, dà una prova di unità e prevede un piano a medio termine per rafforzare l'Ucraina che include appunto sistemi di difesa aerea, F-16 e via dicendo, soldi, 40 miliardi in più e così via. L'agenda implicita è che si aspetta Trump al posto di un ammaccatissimo Biden e quindi l'idea è di fare un piano che sia in qualche modo blindato a prova di Trump cosa che è fondamentalmente impossibile io credo nel senso che nessuna di queste decisioni soprattutto quelle finanziarie possono tenere a un eventuale cambiamento. Ora il problema vero è se Trump realmente sarebbe un eversore rispetto alle scelte della Nato in Ucraina questo è molto più discutibile perché ci sono due tendenze la prima è quella dei vari think tank, dei vari intellettuali attorno a Trump che hanno pubblicato in questi mesi una serie di rapporti la Heritage Foundation, l'istituto per una nuova sicurezza in America i quali dicono basta, gli alleati pagano poco e questo l'ha detto anche Trump l'America non può più sostenere tutto l'onere della sicurezza e quindi noi al diavolo chi non pagherà quanto deve non verrà difeso dall'America questa è una tendenza dei think tank e poi c'è Trump medesimo il quale va giudicato per quello che ha già fatto durante la sua prima presidenza nel 2016 e per quello che intende fare quello che ha già fatto è niente nel senso che non è cambiato una virgola sostanzialmente al di là delle parole nella prima presidenza Trump quello che intende fare è il famoso accordo con Putin di cui ha parlato varie volte, ha detto varie volte se ci fossi stato io in un attimo prima di tutto la guerra non cominciava perché Putin avrebbe avuto paura di me mentre Biden eccetera eccetera e poi in 24 ore io faccio un accordo di pace va detto però che nel famoso dibattito che è stato così letale per Biden Trump ha giudicato il piano di pace di pace fra virgolette di Putin cioè la sua richiesta di resa a Zelensky in modo molto negativo quindi anche lì non è detto tutto sommato io non sarei così pessimista per una ragione fondamentalmente la Nato risponde anche agli interessi americani è questo che va considerato e quindi siccome Trump è un uomo abbastanza pratico fa gli interessi dell'America secondo lui o dice di volerli fare io non credo che gli convenga mettere in discussione un'alleanza che si sta europeizzando cioè il contributo degli europei sta aumentando e che permette all'America di dedicarsi di più al fronte che davvero gli interessa cioè la Cina e l'Indo-Pacifico Certo Cina che pur